I primi orizzonti per la migliore interpretazione femminile Orizzonti Award for Best Actress Presidente, chi è la vincitrice? Margarita Rosa di Francisco per il film El Paraiso Rinsegna il premio 18 Grazie a tutti Grazie a tutti Molto, molto grande per me Grazie mille Edoardo Pesce Questo attore così possente, straordinario Mio figlio nel film Afferma che recitare non è una cosa né straordinaria né speciale E' un lavoro come tanti altri Sono d'accordo con lui Enrico También è per te Grazie a tutti.